Da parte del gruppo regionale del Partito Democratico c'è sempre stata la volontà di approdare quanto prima la fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del Partito Democratico Antonio Blasioli e Silvio Paolucci. Secondo i due esponenti DEM lo dimostrano le azioni portate avanti in questi anni contro i provvedimenti finalizzati a cambiare il termine per l'istituzione della nuova Pescara e quelle che sostengono dal punto di vista finanziario questa stessa fusione. Il progetto di legge, a firma del Presidente del Consiglio regionale Sospiri, è volto essenzialmente a rimodulare la data di formazione della nuova Municipalità, spostandola al 2027 e a ridefinire, in modo discrezionale e farraginoso, secondo Blasioli e Paolucci, le modalità di costituzione del nuovo ente. E il disegno di legge in questione contempla l'utilizzo di un ufficio designato, che di fatto non è mai stato istituito, e cioè quello incaricato di supportare i comuni nel processo di fusione predisposto con la legge numero 10 del 16 giugno 2022, grazie ad un emendamento proposto dal centrosinistra, dicono Blasioli e Paolucci, e poi approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. In sostanza, l'organo avrebbe potuto accompagnare le Municipalità nella difficile fase di gestazione, mentre invece si sono persi sei mesi e il prossimo settembre, in base alla proposta di legge, sarà chiamato a valutare se ricorrano o meno le condizioni per la nuova Pescara al 2027. La direttrice Grimaldi ha fatto sapere di aver richiesto l'istituzione dell'ufficio di coordinamento, sottolineando però come il Dipartimento preposto a fusioni e accorpamenti il personale sia insufficiente a fronte dell'aumento di mansioni e competenze e quindi, secondo Blasioli e Paolucci, faticherà a portare avanti un lavoro così complesso. Inoltre, la Regione non ha nominato un commissario, cosa che avrebbe potuto fare, a partire dallo scorso agosto, e a cui invece non ha dato seguito per una precisa scelta politica, secondo i due esponenti Dem. Il mancato rispetto di una legge regionale è un fatto grave che tradisce la volontà popolare e il risultato del referendum del 2014. Per questo motivo, come confermeranno gli emendamenti che Blasioli e Paolucci presenteranno lunedì, stanno lavorando in commissione per arrivare, entro il primo gennaio 2024, alla fusione, mediante una formula ottimale che non arrecchi disagi né alle comunità né ai tre comuni.